Dritto? Perché io mi punto qui, davanti a me, o... Aspetta... Va bene... Io mi punto lì, e... ...e... ...e... Ok... Allora... Uno, due, tre... Uno, due, tre... Uno, due, tre... Uno, due, tre... C'è sei? Sì! Ok... Saluta? Sì, ciao! No, guarda! Aspetta, hai tutto le meduse! Ma qua non fanno niente le meduse! Ciao! Saluta e guarda! Ciao!